Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Ciao Dylan, grazie per essere qui anche oggi e oggi parliamo di Euro 2024. Lo so che è presto, però bisogna accelerare i tempi per essere pronti, bisogna studiare per essere pronti e noi già lo stiamo facendo. Allora, qual è il senso di questo video di oggi? È far capire alle persone che sono fuori, che stanno attendendo appunto di capire che cosa faremo per Euro24. Sarà un mesetto tra il 10 di giugno e circa il 10 o l'11, la data precisa della finale non la ricordo, di luglio e in questo periodo noi andremo a fare il nostro lavoro come sempre, anche su Euro24. Dylan sarà insieme a me e insieme anche a Daniele che è un altro coach dell'Academy e di I'mTrader, parte di questo progetto anche Euro24 con segnali live e quant'altro. Allora, non voglio spoilerare nulla, vi voglio far dire da una persona che ha fatto tutto il percorso, quindi è partito comunque da la prima Academy, il primo anno di Academy, ad oggi è diventato anche coach, vi lascio a lui che vi spiegherà brevemente di cosa si tratta e cosa andremo a fare. Vai Dylan! Ok, allora innanzitutto secondo me è importante specificare che abbiamo cercato di pensare un mini percorso per farci anche un pochettino conoscere, sicuramente meglio, e rendere un qualcosa adattabile anche a chi del trading sa poco e nulla o comunque ci si sta approcciando adesso. Perché secondo me anche partire dalle nazionali o comunque da un periodo in cui c'è un qualcosa di limitato, quindi il numero di partite limitate da seguire, che non sono in contemporanea e quant'altro, può aiutare anche la concentrazione e a cercare di darsi degli obiettivi nel breve e cercare anche un po' di capire come funziona questo mondo. Mentre invece quando ci sono insomma durante l'anno i top campionati, si pensa sempre dal venerdì al lunedì che ci sono 50 partite, magari si ha paura di... Quindi l'idea è di tenervi con noi un mese, sia che abbiate fatto già un tot di percorso con noi, sia invece che ci abbiate conosciuto da poco e abbiate voglia anche di capire come lavoriamo, come operiamo. Quindi questo è lo sfondo del progetto. Poi come sarà strutturato? Lo avrete visto anche un po' da qualche pubblicità in giro. Sicuramente opereremo maggiormente in live, perché comunque chi ci segue da un po' sa che le nazionali sono anche un po' più imprevedibili dei campionati, quindi è vero che possiamo seguirle, conoscerle, infatti grazie a Daniele adesso vi dico, troveremo anche altri prodotti che ci aiutano. Ci aiuteranno all'interno di questo percorso. Mentre nei campionati comunque abbiamo le squadre, possiamo seguirle settimanalmente, adesso invece con Euro o comunque le nazionali sapete che giocano più volte durante l'anno, ma per periodi brevi, quindi è difficile a volte anche studiare o farsi un'idea alla grande di una partita che ha visto la precedente due mesi prima. Quindi sicuramente opereremo in live. Per quanto riguarda invece la parte di pre-match, se così la vogliamo chiamare, lavoreremo sì un qualcosino a livello di betting, che però è il nostro betting, quindi non è andare a fare il lenzuolo da 2 euro, c'è una gestione dietro, ma sarà più dedicata a qualcosa come di antepost oppure a sfruttare le potenzialità di MyMind. Quindi l'avere la possibilità di raccogliere alcuni dati, ad esempio i corner, i teleimporti, i possessi palla, sostenuti dagli studi di Daniele, per provare a portare qualcosa anche a livello di betting. Quindi, trading live sulle partite che seguiremo, e quindi vabbè, exchange, betting, pre-match, utilizzando MyMind, e questo ve lo metto infine perché è unito sia a livello di exchange che a livello di betting, queste due cose unite, sugli antepost. Perché, diciamo così, spoileriamo anche questa cosa, si può lavorare anche sugli antepost. Sicuramente qualcuno di voi, magari nel tennis o nel calcio, lo utilizza già, quindi andare a cercare di prevedere in un tot di partite che cosa potrà succedere. Faccio un esempio banale, Germania che supera il girone, perfetto, per superare il girone che cosa deve fare? Deve fare nelle prossime 3-4 partite tot di punti e arrivare tra le prime due. Quindi, questo è la stragrande per capire che cosa faremo. E tutto sarà incanalato, non l'abbiamo detto, in un canale Telegram, quindi la classica sala segnale, il classico canale di segnali, dove anche lì metteremo il link di Zoom, la gente si potrà collegare, ci potrà vedere, potrà vedere come tradiamo, potrà far domande, non le farà, non importa, potrà solo seguire, non opererà, non importa, ma ci saremo noi dall'altra parte, quindi per qualsiasi cosa seguiremo un tot di partite come stabilito. Esatto, quindi avrete un qualcosa pre, quindi per questo vi diciamo che forse manca anche poco tempo, nel senso che avrete qualche piccolo video, tanto per dare un'infarinatura generale, sia che siate esperti, sia che non lo siate, avrete il mio bel faccione, per modo di dire, qui c'è qualcosa per preparare prima, e un qualcosa post durante, quindi il pre è un qualcosa che avrete come risorsa, lo potrete guardare, riguardare, eccetera, nel durante avremo il canale Telegram, scusate, nel pre, chiaramente tra tutto questo, c'è un lavoro, un grosso lavoro, perché l'ha citato, fatto da Daniele, l'altro nostro coach, di analisi sulle nazionali, quindi anche se non sapete zero della nazionale tal dei tali, per le più importanti Daniele ha preparato un qualcosa, quindi avrete anche quello da leggere prima. Tutto il resto avverrà tramite, come dicevamo prima, canale, canale, sala segnali, come volete definirla, però la cosa importante è che noi saremo comunque in live, quindi è chiaro che vedere tutte le partite è impossibile, ma abbiamo prestabilito già ad oggi un calendario che, vi posso tranquillamente dire, è volto per le prime partite a guardare i nazionali più importanti, quindi Inghilterra, Francia, Germania, Olanda e quant'altro, poi ci interessa seguire, sperando di poter anche coltivare un pochettino il sogno, l'Italia tutti insieme, per il più tempo possibile si spera, e poi arrivati vicino all'ultima partita dei gironi, dagli ottavi in poi, sceglieremo le date in base alle partite che avranno un minimo di valore, che avrà senso seguire. Quindi tutto ciò che si può stabilire prima è già stato stabilito, tutto ciò che dovrà variare nel tempo sarà detto all'interno del canale e delle zone. Esatto, questo canale che racchiuderà tutto, quindi sia segnali pre-match che segnali live nel caso in cui non riusciste a collegarvi perché fate altro, anche se io dico sempre se non potete seguire non tradate perché non è copiare e incollare dove si impara, e sia i link dove ci sono poi i collegamenti per entrare in zoom cliccando e guardandoci. Quindi è un raccoglitore di informazioni questo canale. Sì, ecco. Ok, vai, fai filo. No, volevo proprio aggiungere una cosa. Useremo le tre piattaforme principali per poter fare, in queste competizioni, perché ovviamente durante l'anno no, perché il campionato comunque è lungo nove mesi, ma nelle competizioni brevi come i mondiali, gli europei, ci sono queste tre piattaforme che noi utilizziamo, che sono Betfair, Betflag e Vstart che è il nostro partner per quanto riguarda il betting. Ovviamente per chi vorrà entrare dentro la nostra rete e conoscere come lavoriamo, vi lascio poi dentro nella descrizione i link per iscrivervi, dove nel lato Antepost utilizzeremo Betfair, nel lato betting utilizzeremo Vstart e nel lato trading tradizionale utilizzeremo Betfair. Se vuoi aggiungere qualcos'altro, troverete ovviamente dei video introduttivi, non so se l'hai già detto, se l'hai già detto me lo sono perso, per i neofiti, quindi per chi proprio non sa di cosa stiamo parlando, ci saranno dei video dove spiegheremo che cosa fa... Le basi, ecco, diciamo... Le basi, le basi. Se si sono affacciati adesso a questo mondo, hanno proprio almeno le basi per capire che cosa fare. Poi ricordiamo sempre che tu hai fatto anche una playlist su YouTube dove spieghi proprio le basi, quindi video gratuiti ce ne sono a Iosa, però ecco, c'è qualcosa già racchiuso lì che è proprio improntato anche a chi sta cominciando da poco a vedere come utilizzeremo le varie piattaforme, con poi all'interno anche tutti i vari link che servono. Volevo solo aggiungere una cosa che hai sottolineato tu prima, ma è importante, l'abbiamo detto anche all'inizio, questo mese è intenso, fatto con noi, è sulle nazionali, quindi è sicuramente più difficile del trading tradizionale che svolgiamo durante l'anno, motivo per il quale è consigliato almeno cercare di seguire per capire ciò che si fa. Cioè prendere Euro24 per fare solo copia e incolla, sì, bene, si spera alla fine di avervi portato in profitto, ma non vi avrà dato nulla in più. Cioè l'idea è quella di fare un mese con noi, entrare nel nostro mondo, conoscerci, perché comunque avete la possibilità di conoscerci anche per un solo mese, poi ci potete mandare a quel paese, però apprendere anche qualcosa. Apriamo e chiudiamo la parentesi, all'interno ci saranno anche i ragazzi dell'Academy. Certo. È per questo che è un mondo dove io nei posti dico venite a sbirciare per quel motivo lì. Sì, 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 saremo proprio tutti collegati e poi ci saranno studenti che hanno appena finito l'anno, chi l'ha appena iniziato, chi è a metà, quindi gruppo eterogeneo potrete vedere se effettivamente questo mondo e questo clima, io sottolineerei, fa per voi, perché il mondo può far per voi, ma possiamo anche non starvi simpatici noi e quindi cercare di apprendere qualcosa da qualcuno che non vi sta simpatico è impossibile. Ma poi non tutti sono portati a far trading, non tutti hanno voglia di far trading, come non tutti fanno gli idraulici, non tutti fanno gli elettricisti. È un mondo che piace e non piace. Se a qualcuno piace, noi siamo qua. Allora vi lascio, perché siamo al termine di questo video, i link per acquistare, quindi Euro 2024, entrare nel nostro network di Betflag e BoostArt e poi tutti gli altri link per l'Academy, il copy trading, che state vedendo scorrere comunque qua sopra in basso, e tutti i nostri prodotti dell'Academy. Io... Vi ringrazio per il numero, no? Del numero del supporto, no, Filo? Avessero bisogno di qualche domanda. Sì, sì, il numero del supporto lo trovano dappertutto, ma sì, hai fatto bene a dirmi, ve lo lascio anche qui di Whatsapp. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, ringrazio Dylan sempre per la presenza, spero che chi sta vedendo questo video poi lo vedrò anche dentro nella sala segnali e in Zoom, e speriamo che chi vinca questo europeo? L'Italia! Sì, 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 sì. Lo distruggiamo il Duomo, se dovesse succedere, no, però, va bene, speriamo, insomma, di potercelo godere tutti insieme con un bel calcio, dai. Partiamo da questo, che è un po' più tranquillo. Io vorrei lasciare questo video dicendo che più partite vince l'Italia e più va avanti nel torneo e più birre ci spariamo. Vero, bellissimo. Infatti sono a dieta adesso per poter arrivare all'ora, poter mescolare tutto il biore. Anzi, pizza e birra, pizza e birra, pizza e birra. Pizza e birra. Ciao a tutti e grazie. Ciao a tutti. Un saluto. Ciao, ciao.